Quello che dico io io ho un seguito micidiale ma credimi tante volte dico ma cazzo devo stare anche attento perché creo posso credere veramente a casino bravo hai attento di tanto sto ma lo dico lo penso io guarda che lo dico cioè creo casino poi trovo il matto magari che dalle mie parole passa l'azione no? non sapendo che devo dare io comunque il via per l'azione perché mi assumo responsabilità in tutto e per tutto ma detto questo vedo che la gente comunque mi segue perché mi ferma io vado a Udina Trieste ma credimi tu devi venire via con me vado a venire via con una telecamera nascosta e camminare con me allora e poi c'è quello che dice cazzo ma è matto è matto ma si è così perché in questo paese di merda chi esce dai canoni della strada normali o tu vai via con le scarpe come vado via vestito come cazzo voglio io non perché uno io portavo mi ha detto una settimana fa per strada camminavo così con i giri ma scusi bravo ma lei non è il direttore no? e il titolo ha detto sì e perché è vestito così cioè perché nell'immaginario collettivo ma anche della gente giovane di Occaro questo che non ho visto cioè dei quarantenni pensano che il direttore li si è vestito sempre con la calavata come De Bortoli come De Bortoli cioè ma ti rendi conto allora ti dico ti fermo e dico no ma va avanti così sì però hanno paura hanno paura erano stessi l'unico che è io sì